dal libro di tobia io toby in quella notte di pentecoste dopo aver seppellito il morto mi lavai entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile per il caldo che c'era tenevo la faccia scoperta ignorando che sopra di me nel muro stavano dei passeri caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi che mi produssero macchie bianche e dovetti andare dai medici per la cura più essi però mi applicavano farmaci più mi si oscuravano gli occhi a causa delle macchie bianche finché divenne cieco del tutto per quattro anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli a kikar nei due anni che precedettero la sua partenza per le limaide provvide al mio sostentamento in quel tempo mia moglie anna lavorava a domicilio tessendo la lana che rimandava poi ai padroni ricevendone la paga ora nel settimo giorno del mese di distro quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni essi oltre la mercede completa le fecero dono di un capretto da mangiare quando il capretto entrò in casa mia si mise a belare chiamai allora mia moglie le dissi da dove viene questo capretto non sarà stato rubato restituiscelo ai padroni poiché non abbiamo nessun diritto di mangiare una cosa rubata ella mi disse mi è stato dato in più del salario ma io non le credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni e per questo mi vergognavo di lei allora per tutta risposta mi disse dove sono le tue lemosine dove sono le tue buone opere ecco lo si vede bene da come sei ridotto saldo è il cuore del giusto che confida nel signore beato l'uomo che teme il signore e nei suoi precetti trova grande gioia potente sulla terra sarà la sua stirpe la discendenza degli uomini retti sarà benedetta saldo è il cuore del giusto che confida nel signore cattive notizie non avrà da temere saldo è il suo cuore confida nel signore sicuro è il suo cuore non teme finché non vedrà la rovina dei suoi nemici saldo è il cuore del giusto che confida nel signore egli dona largamente ai poveri la sua giustizia rimane per sempre la sua fronte si innalza nella gloria saldo è il cuore del giusto che confida nel signore dal vangelo secondo marco in quel tempo mandarono a gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso venero gli dissero maestro sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia nessuno ma insegni la via di dio secondo verità è recito o no pagare il tributo a cesare lo dobbiamo dare o no ma egli conoscendo la loro ipocrisia disse loro perché volete mettermi alla prova portatemi un denaro voglio vederlo ed essi glielo portarono allora disse loro questa immagine e l'iscrizione di chi sono gli risposero di cesare gesù disse loro quello che è di cesare rendetelo a cesare e quello che è di dio a dio e rimasero ammirati di lui